Maurizio Barbo, nel tuo intervento hai insistito su due concetti, ahimè inglesi, network e open. Innanzitutto ce li traduci e ci spieghi cosa vuol dire fare network e cosa vuol dire avere una mente open nel nostro settore e riferendoti proprio agli integratori, agli installatori, sul piano molto concreto. Ma network sia per noi che per gli installatori, secondo noi è un modo nuovo e moderno di trasferire informazioni, far correre le informazioni e che queste praticamente siano utili all'installatore per risolvere dei problemi. Nel stesso momento open è una persona che effettivamente non è chiusa, è aperta, è aperta alla soluzione, la piattaforma aperta a che questa dialoghi con mille soluzioni possibili che per lui sono un risultato e affari un po' più garantiti in questi momenti. Ritieni che abbracciare l'IP, le piattaforme aperte, possa essere una fonte di recupero delle marginalità che si stanno sempre più assottigliando o no? Beh le considero quasi strategiche in questo momento perché è un modo di differenziare e di avere cultura rispetto a tutto il resto del mercato. Il mondo IP, digitale, tutte le funzioni che a esso si possono associare e scaturire è quel qualcosa in più proprio che l'analogico ormai non riesce più a dare. Diamo due parole chiave per motivare i nostri operatori della sicurezza ad abbracciare l'IP. Ritorno sempre lì, essere open e strategico e non aver paura ad acculturarsi a quello che sta arrivando dal mercato e lo si vede anche dalle tecnologie megapixel e quindi correre, stare al passo è determinante per tutti gli installatori. Avanti e veloce!